Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Salmo 27, versetto 4. Trova la tua gioia nel Signore. Per mezzo di Gesù, colui che intercede per noi presso il Padre, ci possiamo accostare con piena fiducia al trono della grazia. Quando ammiriamo la gloria del Signore, lo Spirito Santo opera in noi con potenza. Attraverso la preghiera, lodando e adorando il nome di Dio, veniamo trasformati a immagine di Cristo. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo 3, versetto 18. La comunione con Dio, ovvero l'incontro con Lui attraverso la preghiera, è un bene prezioso di cui abbiamo bisogno e che dobbiamo ricercare continuamente. Per questo è importante contemplare la maestà, l'amore e la bellezza del Signore ogni giorno della nostra vita. È soltanto così che potremmo risplendere della sua luce.